Lavoriamo sempre insieme come grande squadra ed è giusto che chiunque abbia le proprie idee, abbia le proprie proposte, questa è una bella squadra per questo, quindi ognuno ha diritto di parola, di espressione, di proposta e io terrò in considerazione in modo adeguato ogni richiesta, vuoi che viene fatta dal singolo cittadino, vuoi che viene fatta dal singolo consigliere, dal singolo assessore, dai gruppi politici, il compito del sindaco è trovare l'equilibrio. Dicevo che l'impasto si farà? Vediamo, sì, noi stiamo al lavoro, i fronti come vedete sono tanti e quindi è una battaglia, sui fronti di battaglia vedremo di volta in volta qual è la priorità, però sicuramente ci saranno degli interventi, vediamo quando, vediamo in che termini e poi sempre gli interventi devono puntare a un obiettivo, non a soddisfare Tizio Caio Sempronio, ma a rendere più forte la città, migliore la qualità della vita, più forte l'azione amministrativa, il compito del sindaco non è accontentare Tizio Caio o l'orticello di qualcuno, una visione più ampia, terrò conto di tutte le proposte, se ci stanno proposte interessanti, perché no?